Confronto proficuo e costruttivo con l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi in merito allo stato di attuazione del protocollo d'intesa delle bonifiche dell'area SIN di Gela l'ha avuto a Roma e il coordinamento delle donne del territorio gelese è stata focalizzata l'attenzione sullo sviluppo sostenibile e sulle possibili risposte alla grave situazione sociale ed economica del territorio. C'è stata una grande disponibilità ad ascoltare le nostre proposte e soprattutto da parte dell'amministratore delegato abbiamo notato una volontà di stare a fianco al coordinamento e di aiutare a portare avanti le nostre proposte. Abbiamo affrontato tutti i temi che sono legati al nostro territorio. è stato un lungo confronto, molto costruttivo e noi siamo fiduciosi. Per il momento vogliamo fermarci solo a questo perché nel mercato delle illusioni sono state vendute tante cose in questa città. Noi vogliamo fare un altro percorso. Nel momento in cui avremo dei risultati da presentare alla città noi ci rivedremo. Siamo convinti che però siamo su una buona strada. Bisogna però fare di più sia col Ministero dell'Ambiente sia con la Regione. C'è ancora un lavoro da fare per sbloccare una serie di ITER che allo Stato sono bloccati. Quale sarà l'intervento dell'amministratore delegato? L'intervento sarà in direzione di una serie di richieste che noi abbiamo fatto. C'è un protocollo che è stato firmato. Ci sono tutta una serie di percorsi e di azioni da portare avanti. Loro sono disponibili e stanno lavorando, così ci hanno detto, in questa direzione. Noi abbiamo chiesto di accelerare. Adesso faremo una serie di confronti sia con la Regione che con il Ministero dell'Ambiente col quale siamo in contatto, sia con il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente che attraverso la Presidente della Camera, anche con il Ministro Galletti. Stiamo provando a fare più in fretta e soprattutto a provare. Quello che noi abbiamo chiesto all'amministratore delegato è quello di essere Eni, oltre che un soggetto economico in questo territorio, anche un soggetto economico e sociale. quindi aiutare il territorio attraverso gli strumenti che possono mettere in campo ad avere anche un ruolo in questa direzione. Noi siamo fiduciosi.